Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Crystal Channel Kiria come potete vedere questo è il mio tablet che mi hanno regalato il mio compleanno e questo è appunto il video che ho fatto quel giorno che è appunto il 6 febbraio, non l'ho fatto uscire quel giorno lì perché non ho connessione quindi non... cioè questo video uscirà probabilmente verso sera e vi farò anche alcune altre parti perché sicuramente non me lo prenderà tutto il video ma vabbè, iniziamo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Crystal Channel Kiria e oggi sono in compagnia di 3 ragazzi super speciali, salutate! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! 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 Io mi chiamo Flyvol Esatto, però non è un canale YouTube, quindi non c'è il caso. Io mi chiamo Lori, lei è music Lori Live, lei si chiama Mr. Mutanda. Volevo anzi farvi vedere con le mani sette, con le mani sette, con le mani sette, con le mani sette, con le mani sette. L'ho bisogno io, bello il disco, rip, 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 rip. E' un po' già tale, buongiorno. Questo è un video serissimo, oggi è il compleanno di Crystal, è il mio compleanno. È di Cina, oggi è il mio compleanno, oggi è il mio compleanno. Quanti anni sono? Faccio 15 anni, ti sei una vecchia vecchia. Oh, vecchia. Oh, ma che vecchia vecchia. Ho delle amiche schifose. Seguitemi su Instagram. Seguitemi su Instagram. Tutti mi devono seguire. Ma comunque 9-1-1. 118. 118. 118. Beh, mo' ti manco, sono io. 118. Va bene, me le pizzerò il vero segale. E capisci che posso fare il pendolo? Ci stanno i pizzeri? Ok, cosa facciamo? È un video del mio compleanno, questi. Ah, certo, è un video del mio compleanno, l'ho finito. Vi faccio vedere quanto sono scarsa con le freccette. Agnao, dai. Faccio vedere quanto sono scarsa. Agnao, dai. Vi farò vedere quanto sono scarsa con me. Quanto sono scarsa. Basta! Quanto sono scarsa nelle freccette. Il male si deve deve... Basta! Basta! No, una locanda! Faccio vedere. Un aplauso, un aplauso! Un aplauso! Brava, insomma, però, ti va qua. Ecco, l'ha presa, l'ha presa. Prova comune. Mi fa qualcosa di, eh? E' un'altra cosa, mi ha fatto bene. Perfetto. È un'altra cosa, eh? Miraculous! Sì, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Grazie. 50 ore. Vada e vai vicino.